Benvenuti, qui siamo al Ciazzupare presso Castigliano del Capo. Vi aspettiamo già dalla mattina alle 4.30 per una buona colazione che inizierà al meglio la vostra giornata. Non perdete anche i nostri ricchi appetitivi da gustare nella storica piazza di San Michele. Inoltre, qui abbiamo anche 100 sommesse vettibili per chi volesse tentare la fortuna. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale Promoselento per scoprire tutte le altre novità del nostro paese.